Il Milan proprio stasera doveva far partire i botti? Chiedo, oggi giornata caldissima, la mia prima giornata di mare, infatti sono cotto a brustolito, ritorno a casa e devo anche in qualche modo complimentarmi con un Milan che chiude qualche trattativa. Devo dire anche interessante perché il nome di Pavlovich per la difesa è un nome assolutamente di valore e attenzione perché non è neanche l'unico nome di giornata perché è partita l'offerta ufficiale per Fofanà, lo stesso Fabrizio Romano che ci ha già dato l'Irguigò e Fabrizio Romano rispetto a tanti altri è uno affidabilissimo, ci ha detto che chiuso Pavlovich adesso si va a chiudere anche per Emerson Royale. Quindi un Milan che come ho già detto fuochi d'artificio e quindi sono un ragazzo fortunato, perdonatemi se mi presento anche così sguaiatamente, fatemi un attimino bere acqua ovviamente con sto caldo. Io forse oggi, la prima giornata di mare è forse la giornata più calda dell'anno, della stagione praticamente, cioè giornata che inizia in un modo finisce allo stesso, ecco e non vi dico come. Se vogliamo unica notizia positiva che non c'è nessuno oggi a disturbarmi perché potrei rischiare di disvalvolare di brutto. Ma adesso scusatevi, torniamo a essere seri. Pavlovich, difensore del Salisburgo, difensore importante, paragonato, visto che in tanti piace sempre avere un punto di riferimento. Ve lo ricordate? Vidic, ne magna Vidic. Io me lo ricordo in una fase negativa della sua carriera all'Inter quando veramente era ormai arrivato. Va, giocatore importante, serbo al Manchester United perché ha fatto tante robe lì. Ecco, Pavlovich viene un po' paragonato a lui. È veramente un mostro, alto 1,8... 1, sì, 1,8... 1,94. Praticamente se voi andate a vedere i numeri sono impressionanti sotto l'aspetto dei due gli aerei vinte. Perché questo è veramente grosso e nonostante la sua stazza non disdegna neanche in velocità. Ha avuto anche presenze in Champions League nonostante parliamo di un classe 2001-2023N. L'anno scorso, quante presenze ha collizionato, dove le ho messe? Le avevo messe qui, le avevo messe da una parte. Eccole qua. Nel campionato della Bundesliga austriaca. Anche dall'Austria la chiama Bundesliga il proprio campionato. Spero che non si stia bloccando perché qua mi dice 40 non elaborato. Vi perdonerete. Nella scorsa stagione 26 presenti. Comunque, soprattutto, diciamolo, 2288 minuti. Tanta roba. Di cui, oltre a questi, anche 480 minuti in Champions League. Conditi da 4 assist e 3 gol tra Bundesliga e Champions. Che per un difensore, onestamente, sono anche numeri importanti. Cioè, quindi, anche un difensore con il vizzettino del gol. Quindi, qualcuno interessato a Fanta Caccio lo tenga a mente. Il Milan aveva bisogno lì dietro di assolutamente di rinforzarsi. Lo dicono i numeri. Lo rimarcava ogni aspetto della scorsa stagione. Quindi, un rinforzo, secondo me, mirato e importante. E anche un esborso relativamente importante. Perché parliamo di oltre 18 milioni. Non so se 19, 20. Questo è quello che ci riferisce oggi Fabrizio Romano. Come abbiamo detto, non solo lui. Vicinissimo, praticamente, quasi chiuso. Anche Emerson Royale. Lo stesso Romano che ce lo dice. Qui parliamo, invece, di un terzino destro basiliano che milita nel Tottenham. Ultimamente, forse, ha avuto anche meno spazio. Per esempio, nella scorsa stagione, soltanto 1.155 minuti. Invece, due anni fa, 1.700 più 544 nella Champions League. Con otto presenze. Quindi, rispetto alla passata stagione, sicuramente è uscito un po' dalle gerarchie. Ma resta sicuramente un terzino valido. Classe 99, 25enne. È un giocatore che va a prendere, oggi, se non sbaglio, Provenza del Fortunato. Ma sostanzialmente va a panchinare Calabria. È il capitano. Prendere Emerson Royale oggi significerebbe sostanzialmente questo. Vediamo, giocatore comunque del Tottenham, che quindi ha giocato due anni nella Premier League. Invece, prima aveva giocato, se non sbaglio, nel Betis in Spagna. Milan parecchie volte è andato a pescare dalla Premier. E parecchie volte gli è andata anche bene. Quindi, anche questo è un nome assolutamente da attenzionare. Poi, come dicevo prima, è partita anche la prima offerta ufficiale per Fofanà. Hanno offerto 17 milioni. Il centrocampista, che tra l'altro ha valutato 35 milioni, quindi c'è molta distanza ancora. Però il centrocampista ha dato priorità al Milan, ripiutando invece la proposta di un club inglese, che è arrivata nelle scorse giornate, scorse ore, se non sbaglio. Quindi, è un giocatore che ha dato priorità al Milan, per cui oggi il Milan è assolutamente in testa. Non è fatta, come diceva tempo fa la Gazzetta, ci avevamo fatto anche un video, facendo anche una pessima figura. Però il Milan sta lavorando. Il Milan sta lavorando su più fronti. E quindi un Milan che magari qualcuno, no qualcuno, l'abbiamo detto e l'abbiamo pensato un po' tutti. È partito sicuramente anche a rilento, con l'attaccante che andava chiuso e si è fatto sfuggire Zirkize. Ma poi ha preso Morata, adesso ha chiuso Pavlovic, sta chiudendo Emerson Royale, chiuderà assolutamente un centrocampista che sia Fofanà o chi per lui. Sicuramente credo anche un altro attaccante, quindi un Milan che adesso, come ho detto e come credo, il metterò anche nel titolo, veramente fuochi d'afficio per i rossoneri. E io, come dico sempre più delle volte, sono affascinato e sono incuriosito poi da come questi giocatori renderanno sul campo. Perché quando ci sono tante novità, e nella prossima stagione se ne saranno tante, perché tantissime, praticamente quasi tutte le squadre hanno cambiato allenatore. La Juve, il Milan, il Bologna stesso, la Lazio, la Roma, che comunque De Rossi è arrivata a panchino in corso. Forse l'Atalanta e Inter, no? Delle cosiddette big della parte sinistra. Per cui l'anno prossimo ci sono tante tante incogni e tante novità, lo dice anche il calciomercato ad oggi, per cui vediamo, c'è curiosità. Ecco, questo rende sicuramente più allettante la visione. Detto ciò, ragazzi, io sono cotto, stecchito, brustolito. Me ne vado a Nannina, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio. Ciao.